Salve, ben ritrovati con l'informazione del TGB, un'apertura, parliamo di politica e parliamo di referendum costituzionale perché ieri a Foggia c'è stato Roberto Speranza in un incontro a Palazzo Togana, naturalmente a sostegno della campagna per il No al prossimo referendum che si svolgerà a dicembre. L'intervista. A Foggia per ribadire il No. A Foggia noi parliamo prima di tutto di questioni che riguardano la vita degli italiani perché non mi sembra che le persone comuni abbiano come primo punto all'ordine del giorno la riforma del bicameralismo perfetto o la legge elettorale. Le persone chiedono che noi ci occupiamo prima di tutto di lavoro, di sanità, di trasporti pubblici, di questioni che riguardano la vita comune delle persone e io credo che il PD dovrebbe mettere al centro questo, la questione sociale, la questione istituzionale viene dopo. Io penso che il Partito Democratico deve sapere essere unito qualsiasi sia l'esito del referendum e da parte mia lavorerò esattamente per questo. Abbiamo dato in questi anni la sensazione di avere troppo spesso la testa d'altro. Io credo che il PD riconquista la fiducia dei cittadini se riparte dai problemi concreti delle persone. Ma lei sta studiando da segretario? Ma io voglio costruire un punto di vista alternativo dentro il Partito Democratico. Poi verranno le persone. Oggi c'è da costruire un progetto che parte da idee concrete. E l'avete visto nelle immagini, ieri sera all'incontro a Palazzo Togana era presente anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che però ha puntualizzato dicendo sono qui solo per amicizia, non faccio campagna elettorale. Primo uscito ufficiale per il no. No, io sono venuto a salutare Roberto Speranza perché è un importante esponente del Partito Democratico che è impegnato nella campagna referendare per il no. Come noto io non faccio campagna elettorale. Voto no, ma non faccio campagna elettorale. Quindi sono venuto a salutarlo e a prendere la cittadinanza onorare di Forgio perché onestamente sono sempre qua. Come vede Speranza come segretario del PD? Mi pare un po' presto come visione, nel senso che non è una questione all'ordine del giorno. Adesso stiamo facendo il referendum. Se sono venuto da Bari fino qua per salutarlo, evidentemente ho stima di lui. E chi voterà no al prossimo referendum? Anche il centrodestra questa mattina a conferenza stampa a Foggia. Il centrodestra per il no al referendum del 4 dicembre qui in Piazza Foggia? Assolutamente sì. Stiamo dicendo il nostro no e lo stiamo spiegando ai cittadini per quella che non è una riforma costituzionale ma è una deforma costituzionale. Una riforma scritta in fretta, male, pasticciata per accontentare chissà chi. Ecco perché il centrodestra dice no. È una riforma questa che allontana i cittadini dalla vita politica, che non abbatte i costi della politica, che non dà più il consenso per l'elezione dei senatori ma consegna alle segreterie di partito la nomina di alcuni consiglieri regionali e di alcuni senatori. Il Senato esisterà ancora. È una riforma che crea confusione perché le competenze non saranno più ben distinte fra Stato e Regione. Le Regioni tra l'altro vengono depotenziate di quelle che sono le loro funzioni e quindi viene meno anche quel principio di solidarietà che i nostri padri costituenti hanno voluto all'interno della Costituzione. Siete impegnati con altre iniziative in tutta la provincia? Sì, praticamente questo gazebo è partito, la nostra campagna referendaria è partita da Manfredonia, continua su Foggia e poi verrà riverberata in tutta la nostra provincia con manifestazioni su tutto il territorio fino alla chiusura che avremo poi qui su Foggia. Ci sarà un altro nome importante? Probabilmente questa volta cercheremo di coinvolgere più i cittadini, nel senso che faremo parlare i membri del Comitato per il No e i cittadini di Foggia che esprimeranno la loro idea. Questa è la nostra intenzione. Cambiamo argomento, questa mattina è stato inaugurato Parco San Felice che così torna ai foggiani. È stato inaugurato questa mattina Parco Città, la riqualificazione del Parco San Felice di Foggia. Il progetto è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento Gioventù nell'ambito del Piano Azione e Coesione Giovani Non Profit, messo su e coordinato da un pool di realtà facenti parte del privato sociale cittadino. Si tratta di un ATS, quindi un'associazione che raccoglie altre quattro associazioni di Foggia, Fondazione Apulia Felix, Associazione di Volontariato Aquilone, Associazione Ener Giovane e Cooperativa Monti Dauni. In più la Fondazione Banca del Monte ci ha aiutato per il discorso recinzione. Adesso inauguriamo il fatto di ridare ai cittadini, alla città tutta, un bene pubblico che rimarrà tale e quindi sarà utilizzato da famiglie, bambini, giovani soprattutto, perché il target principale del progetto sono i giovani. Qual è, secondo lei, un'idea per rivalutare e comunque tenere bene questo angolo di città? La partecipazione. Questo deve, in realtà vedete, è pieno di vetri e questo è un simbolo di quello che dovrebbe essere aperto, trasparente, accessibile. Se a cominciare dei giovani viene partecipato, vissuto anche in autonomia rispetto alle associazioni, rispetto agli adulti, allora possiamo garantirci un passaggio di testimone e far sì che duri negli anni. Numerose le autorità presenti alla manifestazione, sia locali che regionali. Le interviste. All'inaugurazione del nuovo volto di Parco San Felice erano presenti anche le istituzioni regionali e comunali, come il primo cittadino Franco Landella e l'assessore regionale al bilancio, Raffaele Piemontese. Oggi è una giornata importante per Foggia, per la nostra città, perché ridiamo ai foggiani e alla vita un pezzo importante di Parco San Felice. Parco San Felice nell'immaginario collettivo dei foggiani rappresenta un luogo davvero vitale dove si fa sport, dove i nonni portano a passeggio i nipotini, dove gli adolescenti iniziano a conoscersi e questo è un bellissimo esempio di collaborazione tra le istituzioni e non solo, collaborazione tra le istituzioni e tra la società civile, perché è un progetto del governo nazionale, sostenuto da tutti gli enti territoriali, che ci fa rendere Foggia più bella. E' questo un esempio da continuare a praticare. E' un pezzo di città che è stato vandalizzato ed è stato riportato alle origini e quindi bisogna esternalizzare, a mio avviso, proprio per mia visione, cultura, così come stiamo facendo per gli impianti sportivi, stiamo facendo anche per i contenitori culturali. Noi dobbiamo dare la possibilità a chi ha qualità e capacità superiori alla pubblica amministrazione di restituire decoro e soprattutto restituire la fruizione originale di questi contenitori alla città di Foggia. Andiamo in provincia, in particolare a Castelnuovo della Daunia, che rivive grazie al suo turismo termale. Castelnuovo della Daunia, stazioni di soggiorno e turismo termale dei Monti Dauni, punta al rilancio delle sue terme attraverso una serie di iniziative che mirano al miglioramento della qualità della vita. Guirino De Luca, sindaco di Castelnuovo della Daunia. Noi abbiamo qui delle terme che hanno proprietà uniche. Abbiamo un'acqua termale prelevata in falde acquifere presenti a Castelnuovo, a 170 metri di profondità e abbiamo dei fanghi bentonitici estratti in cave di Castelnuovo che mescolati con quest'acqua minerale danno un effetto benefico per i cittadini, per i fruitori delle terme. Del futuro delle terme di Castelnuovo se ne è parlato nel corso di un congresso sulle prassi della buona salute. Nicola Caccavelli, amministratore delle terme di Castelnuovo. Terapeuticamente le terme di Castelnuovo hanno il panorama più completo delle terme in Puglia. Noi abbiamo, cominciamo dalla terapia idropinica, abbiamo praticamente cura idropinica, cura inalatoria completa, poliser, clenoterapico, ventilazione polmonare, falneobanco terapia, massaggi terapeutici e percorso vascolare. E da ultimo siamo le uniche terme ad avere la riabilitazione motoria in acqua termale. E Castelnuovo della Raunia si candida a diventare borgo della salute. Rosa Grazia Bellomo, professore associato in medicina fisica e riabilitativa, Università di Chieti. Questo territorio ha sicuramente tante possibilità per poter essere inserito in quei grandi percorsi che si chiamano proprio Borghi della Salute, dove il sindaco ha già individuato dei piccoli stabili dove potremo ospitare pazienti e persone con disabilità e non. Una seconda cosa che possiamo fare insieme, che ha promesso anche con me il sindaco di fare, è un lavoro di screening e prevenzione nelle scuole. Quindi metterò a disposizione del sindaco e delle scuole di Castelnuovo, ma perché no, anche apprendosi a fare dello screening sulla popolazione studentesca per le malattie nell'età evolutiva, quindi sui bambini. E adesso parliamo di libri perché il giornalista Marco Ferrante ieri è stato foggio a presentare Gin Tonic, Occhi Chiusi, il suo ultimo libro sui vizi e le virtù della borghesia romana. Una Roma bellissima ma nello stesso tempo decadente, fa da cornice alla trama dell'ultimo romanzo di Marco Ferrante, il giornalista e scrittore fa tappa anche a Foggia alla Mondadori per raccontare il retroscena di una famiglia altoborghese segnata da gossip e corruzione. Gin Tonic, Occhi Chiusi, così il vice direttore di La Sette è intitolato il suo quarto libro edito da Giunti, è diventato un caso letterario in pochi giorni. A conversare con lui, giornalisti Alessandra Benvenuto, Michi De Finis. Marco Ferrante, partiamo proprio da qui. Quanto dell'immagine della copertina c'è nel tuo romanzo? È una buona questione, non saprei dirlo. In realtà è semplicemente una bella foto, è una foto di un fotografo americano che si occupa di social life e mi è sempre piaciuta e quando Antonio Franchini l'ha vista ha detto, ah questa è la copertina. È un'atmosfera, forse allude all'atmosfera del libro. Espietato, ironico, beffardo, Marco Ferrante con crudo spirito di osservazione mette nudo i meccanismi di dissoluzione della classe sociale in questione. Che si tratti di fotografia o finzione, il confine è sottile, la dimensione nella quale sono proiettati i protagonisti, i tre fratelli Misiano e il vuoto, freddo e spettrale che anima i luoghi dove gli attori principali conducono le loro vite tra pettegolezzi, scandali, sprechi. Se fosse una fotografia è sicuramente uno sguardo negativo, nel senso che è un libro che parla di borghesia, che parla di classi dirigenti, che parla di una famiglia che è una famiglia che appartiene alla classe dirigente italiana ed è una famiglia molto sbrindellata ed è rappresentativa di com'è la situazione, appunto, se fotografata dell'attuale classe dirigente. Però poi in prospettiva è un libro tutto sommato ottimista, cioè si chiude con delle lenzuola che svolazza. Il tentativo? Quello di raccontare la società attraverso questa famiglia e i grandi difetti della nostra società, secondo l'autore, sono racchiusi tutti lì. Tutti i protagonisti, il giornalista conformista, il commercialista da un milione di euro l'anno e il deputato della prima legislatura, si comportano in modo competitivo. L'egoismo ha la maggiore tra le mura della casa e nella vita pubblica. Adesso parliamo di solidarietà perché i giovani industriali, commercialisti e i giovani avvocati di Foggia si sono sfidati in un triangolare di calcetto per raccogliere fondi per l'Avis. Presidente, quattro tiri a pallone per solidarietà, per aiutare l'Avis di Foggia? Sicuramente è un bel modo per dimostrare che facendo squadra riusciamo anche a portare solidarietà a chi è meno fortunato di noi. Abbiamo scelto di farlo insieme ad altre due associazioni, giovani avvocati e giovani commercialisti, perché crediamo che insieme si possano ottenere risultati grandemente più importanti di quelli che si possono ottenere da soli. Oggi non è importante chi vince, l'importante è che vinca la solidarietà. La solidarietà credo abbia già vinto anche perché abbiamo fatto una raccolta di beneficenza che andava al di là della semplice quota per il campo, quindi crediamo di aver già raccolto una bella cifra. Siamo qui per divertirci certamente e sicuramente proveremo anche a vincere. È un'iniziativa che noi abbiamo ideato a settembre per cercare di far sì che il mondo giovanile foggiano, quindi che abbia ampio respiro, quindi dagli avvocati fino a industriali con noi commercialisti, potesse in qualche modo contribuire a questa città e fosse un segnale per dire che comunque esistono anche noi professionisti al fianco delle forze pubbliche per poter far sì che questa città comunque possa risvegliarsi e poter portare avanti un processo di rinnovamento completo. Avvocato, abbiamo tolto la toga, abbiamo indossato la maglia e le scarpette da calcetto, almeno per solidarietà. Sì, una bellissima manifestazione oggi nata dalla sinergia tra tre associazioni di giovani, professionisti della città, imprenditori, commercialisti e avvocati, perché riteniamo che il nostro ruolo nell'ambito della comunità sia anche dare uno sguardo alle situazioni più disagiate. Non è questo probabilmente il caso, ma comunque un'associazione meritoria come l'Avis va sempre ricordata ogni giorno e oggi vogliamo contribuire con questa piccola raccolta fondi a sostenerla per la sua opera di tutti i giorni. Chi vincerà? Beh, vinceranno i migliori o sicuramente quelli meno appesantiti. Io sicuramente sono tra questi ultimi. Dal calcetto al calcio perché domani torna in campo il Foggia Calcio. Foggia-Catania è una sfida affascinante per il blasone, la storia delle due società, ma anche per l'attuale forza delle squadre di Stroppa e Rigoli, collocate in classifiche e in posizioni diverse. Foggia-Secondo-Catania-Doddicesimo causa solo la penalizzazione di meno sette dei rossoblui solani, figlia, delle vicissitudini che attanaglino gli etnei da tre stagioni a questa parte. Il Foggia punta senza mezze misure al risultato pieno, a quella vittoria che potrebbe consentirgli di riguadagnare il primo posto, nel caso in cui nessuno tra Juve-Stavia, Matera e Lecce impegnati in trasferta, ma ovviamente su tutta l'attuale capolista Juve-Stavia dovesse riuscire a vincere. Stroppa ritrova guarna tra i pari e Sarno sul fronte offensivo. Entrambi dovrebbero essere dell'undici iniziale. Foggia-Catania andranno in campo alle 16.30 con la direzione del signor Piscopo di Imperia. In una giornata, la dodicesima, che vedrà Juve-Stavia, Lecce e Matera fuori casa nell'ordine a Catanzaro-Fondi e Messina e poi affrontarsi Acragas-Melfi, Francavilla-Monopoli, Cosenza-Casertana, Andrea Vibonese e Paganese-Taranto e Regina-Silacusa. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie di averci seguito. Buon pomeriggio a voi tutti. Arrivederci e naturalmente buon fine settimana. Grazie a tutti.